Festival degli antichi suoni a Novivelia, un suono antico che si fa attuale. La grande musica popolare sarà protagonista a Novivelia il 28, il 29 e il 30 agosto, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario estivo. Un programma musicale da gustare naturalmente insieme a prodotti locali e la cucina popolare. Siamo pronti a farvi danzare con la musica popolare itinerante per le vie del paese. Grazie